Unghie perfette? Falle a casa, è facilissimo! Vai su lccosmetics.com, scopri i nostri prodotti e ordina il tuo kit semipermanente. Ricevilo subito! All'interno trovi tutto per un risultato professionale anche a casa. Applicazione semplice, ultra brillante e resiste proprio a tutto! Lccosmetics.com, il tuo smalto semipermanente. Oh, la spedizione è gratuita!